Il congresso di Vienna voleva riportare la situazione europea esistente prima della rivoluzione francese, ma gli ideali rivoluzionari di libertà e uguaglianza avevano impregnato in profondità i popoli, così scoppiarono i moti in quasi tutta l'Europa. Iniziarono a formarsi le società segrete, cioè gruppi di persone che si riunivano segretamente per discutere su come cambiare la società e come lottare invasori e tiranni, nemici della patria. Si discuteva anche sul come poter limitare l'assolutismo di un sovrano o come far valere i diritti di libertà e di uguaglianza del popolo. In Italia questo tipo di società segreta si chiamava carboneria, mentre in Grecia si chiamava eteria. La Grecia voleva liberarsi dal dominio dell'impero ottomano, mentre parte dell'Italia del nord voleva liberarsi dal dominio dell'impero austriaco. Le società segrete sognavano uno stato repubblicano libero o quantomeno una monarchia parlamentare, nella quale il potere del sovrano doveva essere limitato da una costituzione democratica in grado di regolare i rapporti tra governo e parlamento, dando importanza anche a un parlamento democratico eletto dai cittadini. Nel 1820 scoppiarono i moti in Spagna e poco dopo in Portogallo contro l'assolutismo dei Borbone e il carico fiscale imposto ai cittadini per finanziare le guerre coloniali. I moti scoppiarono a Cadice dove i militari in partenza per le guerre coloniali in America in Sorsero e il re fu costretto a ripristinare la Costituzione che limitava il suo potere che era stata votata dal Parlamento qualche anno prima. Il primo luglio del 1820 i moti italiani partirono da Napoli con il generale Guglielmo Pepe. Ferdinando I, sovrano Borbone del sud Italia, giurò fedeltà alla Costituzione spagnola e i moti ben presto si estesero anche a Palermo e in Piemonte. Giurare fedeltà a una Costituzione significava autolimitarsi. Carlo Alberto di Savoia si convince a firmare una Costituzione e il vento del cambiamento soffiava sempre più forte anche se non sempre questi moti andarono a buon fine. Infatti nello stesso periodo in Lombardia e in Veneto ad esempio gli austriaci arrestarono i capi delle insurrezioni ancora prima che queste si verificassero e tra questi capi venne arrestato anche Silvio Pellico. Anche in Russia nel 1825 scoppiarono dei moti i decabristi chiamati così perché gli ufficiali russi fecero un'irruzione nel dicembre del 1825 e così i decabristi riuscirono ad ottenere una Costituzione dallo Tsar che garantì uno stato più moderno e funzionale. Nel 1821 scoppiò la guerra in Grecia e nel 1822 i greci proclamarono l'indipendenza dall'impero ottomano e nel 1829 i greci aiutati anche da Francia, Russia e Inghilterra sconfissero gli ottomani e nacque così il regno di Grecia. Grande paradosso il fatto che la Santa Alleanza o una parte di essa aiutasse la Grecia a liberarsi dall'invasore proprio perché l'impero ottomano costituiva dal punto di vista geopolitico un problema per questi paesi europei che videro l'opportunità di poter indebolire un pericoloso avversario. Esponenti del neoclassicismo e del romanticismo si schierarono con gli oppressi dagli invasori come nel caso dello scrittore romantico inglese Lord Byron che da amante del mondo greco romano decise di combattere per l'indipendenza della Grecia e Lord Byron morì proprio durante la guerra contro gli ottomani combattuta al fianco dei greci. Nel regno di Francia scoppiò la rivoluzione borghese dopo le tre gloriose giornate nelle quali vi fu un'insurrezione popolare, il re fuggì e la corona fu offerta a Luigi Filippo d'Orléans che accettò una costituzione che limitava il potere del re a favore del parlamento. Questa nuova monarchia venne chiamata monarchia borghese in quanto l'insurrezione venne fatta scoppiare dalla borghesia. Come la prima rivoluzione francese anche quella delle tre gloriose giornate francesi ebbe un grande impatto su molti altri paesi tra i quali gli stati italiani e in uno di questi Ciro Menotti capeggiò la ribellione delle città romagnole contro lo stato pontificio ma la ribellione venne sedata dalla Santa Alleanza. In Inghilterra i Tories di stampo conservatore limitavano il liberismo borghese e i borghesi proprio per questo chiedevano sempre di più un libero mercato e più diritti dei lavoratori nelle fabbriche e nel 1830 i liberali del parlamento, i Whigs, vinsero le elezioni e andarono al potere e grazie al ministro Charles Gray vennero fatte molte riforme liberali anche in favore della borghesia e del libero scambio e venne emanata la Poor Love, una legge che prevedeva assistenza ai poveri.